Sapete proprio tutto dei vostri amici coniglietti? Hanno un sacco di segreti? Per conoscerli un po' meglio partiamo dal musetto. Il naso del coniglio indica il suo umore. Se si muove velocemente il coniglietto attento a cosa succede, a volte preoccupato. Invece se si muove piano significa che tranquillo. Questo è il momento perfetto per avvicinarsi e coccolarlo. Amerà le vostre coccole e farà le fuse come un gattino. Preparatevi perché poi si metterà bacio in su per averne altre. Ricordate che ai coniglietti non piacciono stare soli, quindi passate tanto tempo con loro o trovate un amichetto. Ma lo sapevate che i conigli hanno un superpotere? Infatti vedono anche dietro di loro, ma senza girarsi. Però non vedono benissimo davanti, ma per questo ci pensano i baffetti. Inoltre i loro dentini non smettono mai di crescere, è per questo che sgranocchiano sempre qualcosa. Beh, in più sono dei colosoni. Con questi consigli saprete subito se un coniglietto è felice, ma ricordatevi, l'importante è amarlo e rispettarlo sempre, come tutti gli altri animali. Grazie per la visione!